Faccio una ripresa? Lunedì 20 febbraio 2017, gara di campionato, categoria giovanissimi, il girone unico di Chieti. Agli ordini dell'arbitro, signore Leonzi della sezione Aglia di Lanciano, scenderanno in campo la Virtus Castelfrentano e l'Accademia Calcio Frentana. Bravo Sofian, tanti auguri! Ecco i ragazzi Orange dell'Accademia vanno a salutare i coetanei della panchina nostra e viceversa i nostri vanno nella panchina. Bocca al lupo! Ok, andate a salutare! Bello, veloci, veloci, veloci! Ecco il pubblico, ecco i fans, i capi Ultras, Nicola, Luca, l'altro non mi ricordo il nome però, è come se l'ho salutato. Ecco, ok, tornate in panchina. O mettetevi le casacche, i panchinari, 2, 4, 5, 6 e 7, ok, 7 panchinari, sta a posto. Grazie. 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 Grazie.